Guardi che prendono posto in campo, facciamo di sentire tutto l'azzo! Giochiamo come sappiamo! Andi, se che mi basta inizio! Presto! Non attacco! Colettato in un guido! Passala! Splendida parata! E' il contatto, grande elenico del portiere! Gioola! Che parata! Che forte! Non mi sento! Che mi tiene? Che fa? Che fa? Ehi! Uomini fermati! Da questa parte! Si, si! E' il contatto, è in bocca! Mi torna a sboccare! Sono qui! Sono la cassa del Golden Party! complementary, è in bocca! E' il contatto! Tasto sugi! E' il refletto di questa parata. Bene, giropalla. Guardami! Presto! Che buono! Contratto deciso, ma pulito! Seguirà! Buono! E' sfidato! Nadia ci credo! Posso andare in porta! Punta al nuovo Paisto! A prestesciare successo! Arrivano al Paisto! E' sfidato! E' identificata! Ha interrotto una schiera in fericolota! Che numero! Dornate! 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 Gli Islam! Gli Islam! Gli Islam! Gli Islam! Ehi! 5, 4, 3, 1, 2, 1. Non puoi sbagliare! Passala! Guarda di nuovo il campo! Non puoi sbagliare! Passala! Bella conclusione! E' cominta! Sono qui! E' cominta! E' cominta! E' cominta! E' cominta! E' cominta! Guardami! Pass! da questa parte posso andare in porta sono qui che parata oh vanno a ristabilire la parità presto, presto non può sbagliare e torna a giocare 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 guardami torna a giocare e torna a giocare e torna a giocare e torna a giocare si continua guarda 4 separate da 3 gol 5 a 2 in tempo guardami si vuono ad attaccare anche al risultato ormai compromesso allunga la gamba e recupera palla presto, presto ancora 10 secondi ancora 10 secondi 7 6 5 4 3 2 1 4 5 8 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15